Trovato l'Iveira implacabile sotto porta, non segnava in campionato da due mesi, e scoperto l'altruismo di Batigol, giunto ieri al Capolini. Trovato l'Iveira implacabile sotto porta, non segnava in campionato da due mesi, e scoperto l'altruismo di Batigol, giunto ieri al Capolini ed una settimana d'alta tensione. In una Fiorentina senza Rui Costa, Schwarz e Carnasciani, una settimana d'alta tensione. In una Fiorentina senza Rui Costa, Schwarz e Carnasciani.